Allora, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del canale. Oggi voglio portare questo video su questo nuovissimo protocollo che vuole essere costruito all'interno di Bitcoin. Ok? E adesso andiamo un po' a vederlo meglio. Si chiama Ataro. Ed è un progetto, appunto, di... Ola Lua Oson Tokun. Che è lui, ovvero il CTO di Lighting Labs, ok ragazzi? Che è un'azienda chiaramente leader nel settore di Bitcoin e soprattutto Lighting Network. Adesso andiamo un po' a vedere quello che ha detto lui. Sono eccitato appunto di pubblicare questo nuovo protocollo. O meglio, quello che è il progetto di questo protocollo. Su cui stava lavorando da diversi mesi. Ok? Cioè Taro, ok? Taro è praticamente un protocollo che vuole essere costruito con Taproot. Praticamente sfruttando quello che è Taproot. Per praticamente favorire la costruzione, la insurance. Quindi l'erogazione, l'emissione di asset, ok? Che possono essere normali asset come stablecoin o collezionabili. Quindi come ad esempio NFT, sfruttando Taproot e Lighting Network. Adesso andiamo un po' a meglio a vedere con l'articolo che ha fatto Bitcoin Magazine. Però intanto ti chiedo di lasciarmi un like, mi raccomando. E di iscriverti al canale se non sei ancora iscritto. Quindi partiamo subito. Lighting Labs, ok? Che è questa azienda, possiamo dire tranquillamente. Che sviluppa all'interno di Lighting Network. Ha introdotto un nuovo protocollo, una nuova proposta di protocollo per Bitcoin e Lighting Network. Cioè Taro. Facendo appunto una serie di bozze nelle BIPs. Che sono appunto queste Bitcoin Improvement Proposa. Quindi proposte di miglioramento di Bitcoin. Chiedendo anche un feedback alla community. Quindi Taro cerca di attivare l'erogazione, le emissioni di asset e collezionabili. Come per esempio sotto forma di non fungible asset. Su Bitcoin. E soprattutto trasferibili su Lightning. Ok? Questa è la cosa sicuramente più interessante. In una più privata e sicura maniera. Senza appunto praticamente intasare la blockchain. E quindi chiaramente cerca di fare leva sull'ultimo aggiornamento del protocollo Bitcoin. Cioè Taproot. Se ve lo state chiedendo sì ho preso qualche nota all'interno di quest'articolo. Così facciamo un po' prima no? Perché comunque è sicuramente una cosa interessante. Ancora non ho visto nessuno che parlava di Taro. Ma può essere un game changer. Perché ripetiamo per chi non l'avesse ancora capito. Bitcoin sarà praticamente il layer 1 definitivo. Un layer principale. Dove ci sarà definitivamente in maniera scalabile. Usando quindi Lightning Network. Quello che è l'erogazione appunto di stablecoin. Di nuovi asset. Che possono essere veramente qualsiasi cosa. E praticamente NFT. Ok? So che ci saranno persone che apprezzano o non apprezzano. Non sta a me dare un giudizio. Ma di fatto può mandare in pensione alcune blockchain nuove. Ok? Adesso il modo che esiste. Ok? Per poter fare questa cosa che ho appena citato. È praticamente creare un'altra blockchain interamente. Come ad esempio Liquid. Liquid pure fa questa cosa. Che è una sidechain di Bitcoin. Anche ad esempio quello che è un progetto che si sta costruendo. Che è Mint Layer. Anche essa sfruttando. Facendo. Sfruttando comunque la sicurezza di Bitcoin. Crea un'altra blockchain. Come sidechain. Dove poi lì si vengono creati tutti gli altri asset. Stablecoin e via dicendo. Mentre qua non si va a creare un'altra blockchain. Questa è la cosa interessante. Non si vanno a creare quindi nuovi token di governance o cose del genere. Token di blockchain. Di gas. No. È semplicemente la possibilità all'interno della blockchain di Bitcoin. Sfruttando la di Network e Taproot. Di direttamente creare nuovi asset. Creare NFT e via dicendo. Questa è la cosa più interessante. Più innovativa sicuramente. Ok? E appunto questo fatto di adesso. Che c'è bisogno di creare una nuova blockchain interamente. Aggiunge fiducia. È un modello basato ancora sulla fiducia. Ed è anche inefficiente. E pericoloso per la privacy. Sicuramente non è eccezionale. Invece Taro usa Taproot. Consiglio la visione anche del video che ho fatto su Taproot. Così da capire meglio perché è importante questo aggiornamento. Perché io già mesi fa. Che era novembre o dicembre. Dissi. Ragazzi. Questo non è un aggiornamento da poco. Se ne sente parlare pochissimo. Ma è fondamentale. E pian piano si vedranno di più i frutti. Taproot permette di impostare condizioni di spesa complesse. Per una sola OTXU. Mentre assicura che solo la condizione che è stata ultimamente usata. Cioè solo l'ultima condizione che è stata usata per spendere la coin viene rivelata sulla blockchain. Cioè che vuol dire in sostanza? Io nel video di Taproot te lo spiego meglio. Cioè della serie. Se voi fate un multisig. Quindi per fare una transazione avete bisogno di tante firme. Ok? Di più quindi. Chiavi private. Di più hardware wallet. Detto in parole povere. E quindi tutto ciò che è dietro non viene rivelato all'interno della blockchain. Per garantire chiaramente una maggiore privacy. Perché solo i dati essenziali vengono scritti sulla blockchain. Tutto il resto no. E anche una maggiore scalabilità. Dal momento che una transazione multisig ad esempio richiederebbe chiaramente più peso. Più firme. Quindi più dati all'interno della blockchain. Quindi più costi in sostanza. Ok? Con Taproot si scartano tutti i dati in eccesso. Quindi risparmi spazio all'interno della blockchain. Quindi risparmi soldi. Risparmi commissioni. Quindi come risultato spendere diventa più privato. Perché appunto un osservatore passivo non può dire tutte le altre condizioni di spesa. Ok? Più scalabile. Per ciò che abbiamo detto. Meno dati. E quindi è solo un pro. Assolutamente. È solo esclusivamente un pro. Taproot. Taro può anche fare affidamento praticamente sulla Proof of Work di Bitcoin. Sul consenso di Proof of Work. Quindi per la sua sicurezza ragazzi. Cioè non vai a fare affidamento su una Proof of Stake. Su un'altra blockchain. Anche se Proof of Work è comunque più piccola. Con una menor rush rate. Oppure crei una sidechain con altri validatori. O cose del genere. No. Stai direttamente sulla Proof of Work di Bitcoin. Che è chiaramente la blockchain più sicura che esiste. Come risultato. Viene differenziato praticamente. Da altre soluzioni altamente programmabili. Come Ethereum. Solo un esempio. Perché è basato direttamente sul modello di Bitcoin. Cioè le UTXO. Che loro scrivono. Che sia più o sicuro. Poiché si evita di riusare chiavi. Ok. E' più privato. Perché non ci sono informazioni riguardo i bilanci. Appunto. Appunto. Esattamente. Se sei in un conto in banca. Come Ethereum. Alla fine è la stessa cosa. Sul tuo wallet. Ethereum. Te arriva un Ethereum. Due Ethereum. E si sommano. Mentre su Bitcoin. No. Potenzialmente. Una persona non può vedere quanti indirizzi hai. Non lo sanno. E quindi non sanno. Non possono sapere. Con. Con certezza. Quanti Bitcoin tu possiedi. Dal momento che ogni Bitcoin. Ogni moneta. Ogni Satoshi. Te lo può far mettere. In un indirizzo diverso. Ok. Non so se è ben inteso. Nel caso me lo scrivete nei commenti. Se non è chiaro questo concetto. Però. E' più facile. Quando poi va sulla pratica. Lo capisci. Il protocollo proposto. Può funzionare. Come. Layer di costruzione. On top. Di Bitcoin. Facendo sì che. Le transazioni degli asset. Taro. Praticamente di Taro. Somiglino. Come. A normalissime. Transazioni Bitcoin. Quindi. All'interno della blockchain. Un osservatore passivo. Non può distinguere. Non potrà distinguere. Quello che è una regolare. Transazione Bitcoin. Normale. Con. Uno scambio. Di asset. Taro. Uno scambio da stable coin. NFT o cose del genere. Quindi aumentando privacy. Chiaramente. Quindi ciò. E' piuttosto elegante. Perché. Ti lascia separare. Ok. Il commitment. Di questi asset. Ok. Da. Dall'attuale script. Itself. Dall'attuale script. Quindi. Quindi. Taproot. In questo caso. Ci consente di separare logicamente. Quello che è il principale layer di Bitcoin. Il principale scripting layer di Bitcoin. Ok. Il livello di scripting di Bitcoin. Dal layer degli asset stessi. Ok. E quindi come risultato. Questa costruzione. Attiva praticamente. Fa sì che. Una singolo. Un singolo. Utixo. Taproot. Può. Effettivamente. Essere usato. Praticamente. Per. Un numero. Non definito. Di. Di asset. E può essere. Solo. Rivelato. Alla. La specifica. Entità. Che ne ha. Che ha bisogno. Di quella informazione. Senza. Inondare. L'intero. Network. Bitcoin. Quindi. Facendo leva. Su Taproot. Per. La. L'erogazione. Di questi asset. E anche. Il trasferimento. Taro. Effettivamente. In linea definitiva. Attiva. Nuove funzionalità. Agli. Estremi. Di Bitcoin. Facendo leva. Sulla liquidità. Di. Di. Bitcoin. Nel mentre. Che. Gli asset. Vengono. Instradati. Attraverso. L'ID network. Quindi. Tutto questo. Senza. Aggiungere. Dati. Non necessari. All'interno. Della. Blockchain. Quindi. Facendola diventare. Più. Costosa. Anche. Per quanto riguarda. Tutti gli altri. Partecipanti. Quindi. Questo. In realtà. Farà sì. Che ci sarà. Maggiore. Bisogno. Di capacità. All'interno. Di. Lighting network. Ok. Quindi. Ci sarà più interesse. Nell'aumentare. In Bitcoin. All'interno. Di. Lighting network. Che in questo istante. Ragazzi. Possiamo andare a vedere. Sono tanti. 3.691 Bitcoin. Ok. E non è. Non è male. Ok. E tutto questo. Farà sì. Anche. Un maggiore. Network. Effetto. Quindi. Sarà solo. Semplicemente. Un bene. Quindi. Come risultato. Taro. Può fare. Un passo. Praticamente. Nella direzione. Nell'aumentare. La domanda. Per. Per. La block space. Quindi. Per. Dello spazio. All'interno della block chain. Aiutando. A Bitcoin. Nel rimanere sostenibili. Una volta che i miner. Verranno pagati. Solo attraverso le transazioni. Dei blocchi. Quando appunto. La coniazione di nuove monete. Sarà vicina allo zero. Nel prossimo secolo. Ok. Quindi. Taro. Diciamo. È un primo passo. Nel rendere. Maggiormente sostenibile. La block chain. Da 2140 in poi. Quando l'emulsione di Bitcoin. Da nuovi blocchi. Quindi l'inflazione. Pari praticamente a zero. Ok. Che da quel momento. I miner. Non è che spariscono. I miner. Semplicemente. Guadagneranno. Dalle commissioni. Ok. Che saranno molte di più. Dal momento. Che. Ci saranno semplicemente. Molte più transazioni. Non solo perché si scambierà. Solo Bitcoin. Ma anche asset. Veri e propri. Bitcoin sarà solo un layer. Base. E tutto ciò che verrà costruito sopra. Adesso c'è praticamente solo l'id network. E poco altro. Ma pian piano che si costruisce sopra. Aumenteranno gli use cases. Per Bitcoin. Itself. Per Bitcoin stesso. E. E quindi. Questo gioverà chiaramente. Ai miner. Anche una volta che. Sarà 2140. Non è un nostro problema. Ma in generale. Comunque. Sarà un problema. Ma si risolverà. Chiaramente. Si sta risolvendo già adesso. Allora. Qui. Fa vedere un po'. Come funziona in realtà. Taproot. In generale. L'avevamo un minimo accennato nel video passato su Taproot. Cioè. Ok. Un albero. Un Merkel tree. Si chiama Merkel tree. Non ha una definizione in italiano. Penso io. Un Merkel tree. E' costruito. Facendo. L'hashing. Di tutti gli oggetti. Praticamente. Fin quando arriviamo. A un singolo hash. Chiamato root hash. Quindi hash. Radice. Che vuol dire. Tu hai 4 dati. Hai. 4 dati. Dato 0. 1. 2. 3. Quindi che succede. Fai l'hashing del primo. Del secondo. Del terzo. Del quarto. Hai 4 hash. Quindi che succede. Fai l'hashing di 0 più 1. Quindi hai 2 hash. Alla fine. Perché fai l'hash. Della somma del primo e del secondo. E la somma del secondo e del terzo. Del quarto. E infine all'interno della blockchain. Che cosa si vedrà? Si vedrà solo il root hash. Quindi la somma. Dei. Di tutti questi hash. Cioè. L'hash degli hash. Ok. Praticamente. E quindi. Tutto ciò che ha la base. I dati. Questi qua. Sono nascosti all'interno della blockchain. Perché. Non è importante questo. L'importante. Cioè. L'hash. Praticamente. Sottointende. Che ci sono le condizioni. Per poter fare questa transazione. E che la transazione sia valida. Ma. Non esplicita. I dati. In questo modo. Quindi questa è una cosa. Assolutamente. Utile. Anche per. La scalabilità. Perché. Se. Se nella blockchain. Si sarebbe scritto questo. Tutti questi dati. Oltre ad avere. Meno privacy. E. Ci sarebbe anche stato. Il quadruplo. Praticamente. Del peso. No. Quindi. Dei costi di transazione. Ok. E infatti. Qua lo dice. Merkle 3. Useful. Picos. Può storare. Tanti dati. E. Viene. E fa sì. Che è più facilmente. Provare. Che questi dati. Esistono. All'interno dell'albero. E permette anche. Ceccare. Quindi. Controllare. Che questi dati. Non sono stati. Manomessi. Siccome. Penso. Sta venendo abbastanza lungo. Io vi lascio. Questo link. In descrizione. Questo. Così. Ve l'ho andata a spizzare. Quindi. Arriviamo un po'. Alla fine. Perché. Volevo far vedere. Anche tante altre cose. Ma. Penso. Che sta diventando abbastanza. Lungo. E forse. Noioso. Non lo so. Scrivetemelo nei commenti. Se vi interessano. O meno. Perché. Io mi devo anche un po' regolare. Quindi. Quello che è alla fine. Making de facto. Making bitcoin. De de facto. Base layer. Taro. Cercherà. Cerca. Di. Leverage. Bitcoin. L'ultimo soft fork. Quindi. Taproot. Per portare. Asset. Con. Un. Vero. Use case. Nel mondo reale. Come il dollaro. Quindi. Stable coin. Ancora dal dollaro. Ad esempio. Sul. Stack. Di. Valute digitali. Peer to peer. Quindi. Praticamente. Fanno diventare. Peer to peer. Quelli che sono. Siccome su bitcoin. Quelli che sono. Asset. Con reale. Use case. Come il dollaro. E quindi. Attiva. L'emissione. Di. Quasi. Illimitati. Numeri di asset. Con un singolo. Utixo. Taproot. Così come. Il trasferimento. Di questi asset. Con. Istantaneamente. Senza. Con. Bassissime fee. Essendo su taproot. Quindi. Un'altra. Un'altra cosa. Che causerà. Tutto ciò. È. L'aumentare. Delle. Delle commissioni. Del. Payout. Fii. Quindi. Di ciò. Che ricavano. Come commissioni. I miner. E. Coloro che. Fanno. Ramping. Coloro che. Praticamente. Forniscono. Liquidità. Tra bitcoin. E lighting network. Ok. Perché c'è anche. Su bitcoin. La possibilità. Una defi. Su bitcoin. È. Il fornire liquidità. Al pool. Ok. Per chi è. Addetto la defi. Al pool. Bitcoin on chain. Bitcoin lighting network. Perché poi le persone. Ci stanno. Piattaforme. Praticamente. Come. Bolz. Che permette. A noi. Gli utenti. Di. Avere. I nostri bitcoin. Normali. On chain. E farli diventare. Lighting network. I nostri bitcoin. Che abbiamo. Sull'lighting network. Falli. Trasportare. Sulla blockchain. Bene. Chiaramente. Per fare ciò. C'è bisogno. Di liquidità. C'è bisogno. Di persone. Che vanno a mettere. I loro bitcoin. On chain. E i loro bitcoin. Lighting network. E queste persone. Guadagnano. Dalle commissioni. Di questi swap. E quindi. Chiaramente. Siccome ci sarà. Una maggiore domanda. Per l'id network. Ci sarà anche. Una maggiore domanda. Di. Di fare questi swap. E quindi. Aumentando. Questi numeri di swap. Questi numeri. Questo utilizzo. Di questo. Ramping. Di questo. Scambio. Ci sarà. Un maggiore payout. A chi. Fa queste cose. Ok. Chiaramente. Ci sono anche. Che. Possibilità. Di. Futuri sviluppi. Sono. Come dice qua. Vicino all'infinito. Vicino. Il senza fine. Quindi. Insomma. Sono estremamente bullish. Quindi. La speranza. Ragazzi. È di. Aprire gli occhi. Di aprire gli occhi. Delle persone. Su. Quello. Che. Il futuro di bitcoin. Riserva. E. Quello che. Taproot. Può. Abilitare. L'obiettivo. L'obiettivo. È. Di avere bitcoin. È. Di. Far sì. Che bitcoin. Sia. Il sottostante. Ragazzi. Il sottostante. Globale. Della. Della rete monetaria. Ok. Della rete monetaria globale. Esattamente. Ok. Quindi. Alimentata. Da protocolli. Aperti. Protocolli. Open source. Ok. Quindi. Una società aperta. Ma. Una società. Non. Non chiusa. E. Quindi. Alla portata. E. Trasparente. Soprattutto. Il fatto che sia aperta. Il fatto che è. Trasparente. Dove tutti noi possiamo contribuire. E. Dove non c'è più fiducia di mezzo. Dal momento che. Quando è una cosa è aperta. Non hai bisogno di fidarti di un ente. Che ha. Appunto. Il controllo. O. Il codice. Ok. Questo è ciò che ha detto. Vi lascio anche questo in descrizione. Queste sono. Proprio. Letteralmente. Le parole. Dello sviluppatore principale. Che. La mente principale. Di Taro. Ok. Ragazzi. Il CTO. Praticamente. Il Chief Tech Officer. Di Lightning Labs. Ok. Che è chiaramente un'azienda estremamente importante. Nel mondo. Bitcoin. E soprattutto Lightning Network. Dove appunto. Presenta con sue parole. Quello che è. Appunto. Taro. Quindi vi lascio. In descrizione. Sia. Questo. Articolo. Di. Bitcoin Magazine. Che appunto. Le parole stesse. Di. Mister. Hola. Oluwa. Oson Tukun. Quindi. Viva Oluwa. Se si chiama così. Già me lo sono scordato. Amen. Quindi ragazzi. Spero che avete capito. Cioè. Ciò. Può veramente essere. Un cambio di rotta. E far sì che Bitcoin. Perché poi si possono creare. Molti. Un vero. Proprio. Mercato nuovissimo. Cioè. Potenzialmente. Anche. Una nuova DeFi. Su Bitcoin. Perché dal momento. Che poi esistono. Asset. Stablecoin. E cose. Ci deve essere. Qualcuno. Che fornisce. La liquidità. Di questi asset. Quindi. Probabilmente. Si potrebbe. Creare. In futuro. Chissà. Anche una vera e propria DeFi. Come la conosciamo. Un pochino. Noi. Su Bitcoin. Sull'ID Network. Cioè. Pensate. Che figata. Estremamente scalabile. Con pochissime commissioni. Con. Base Layer Bitcoin. Che è un layer. Che non va mai in down. Che è un layer. Che è. Incorruttibile. Praticamente. Su cui possiamo. Essere veramente sicuri. Di avere un'ottima sicurezza. Non lo so. Io sono molto. Molto bullish. Cioè. C'è poco da dire. C'è poco da dire. Però penso che si. Si nota. Che sono abbastanza. Bullish. Fatemelo sapere nei commenti. Se. Se vedete che sono bullish. Comunque ragazzi. Noi ci salutiamo qua. Fatemi sapere. Voi invece cosa ne pensate. Su questo protocollo. Non vi scordate. Di lasciarmi un bellissimo like. Per sostenere il canale. Iscrivetevi. Se. Iscrivetevi. Se non siete ancora iscritti. Mi raccomando. In descrizione. Trovate. Anche il link. Per il mio canale. Telegram. E noi ci vediamo. Ad un prossimo. Video. Ciao. 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 Grazie a tutti